Santa Rosa da Lima Il nome di Battesimo della Santa non è quello con cui è universalmente venerata. Nata il 20 aprile 1586 a Lima, i genitori Gaspare Flores e Maria Oliva al fonte battesimale le imposero il nome di Isabel Flores. Non così il cielo. Successe infatti che un giorno mentre la bimba di appena tre mesi dormiva nella sua culla, i passanti videro il suo volto divenire simile a una rosa sbocciata. Da allora la madre non volle chiamarla con altro nome che quello di Rosa. Alcuni anni dopo, però, mentre la fanciulla protestava davanti alla statua della Madonna del Rosario, perché mai io sola fra tutti non porto il nome impostomi nel battesimo e quello che porto non mi viene forse dato per impulso di vanità? La Madonna le apparve rassicurandola. Il mio divin figlio approva il nome di Rosa, ma vuole che vi aggiunga il mio. Perciò, d'ora innanzi, ti chiamerai Rosa di Santa Maria. Dunque, non Isabel, né Rosa, ma Rosa di Santa Maria si doveva chiamare colei che avrebbe fatto della sua esistenza un dono alla Vergine. Una volta che la giovane Rosa aveva portato un mazzo di fiori a Gesù, il Signore le apparve e tra tutti ne prese uno dicendole «Rosa, tu sei questo fiore, io lo prendo per me». Ecco l'aspirazione di tutta la sua vita, lasciare il mondo di cui aveva compreso la vanità ed essere solo di Cristo. All'età di cinque anni aveva già emesso il voto di perpetua verginità. Ciò la rende ancora più simile alla semprevergine, anche ella entrata nel Tempio alla verdissima età di tre anni. Tuttavia, il desiderio di consacrazione divenne via via più esigente, spingendola a chiedere di entrare tra le clarisse di Lima. Venne il giorno tanto atteso in cui lasciò la casa paterna, accompagnata dal fratello Ferdinando, ma successe un fatto imprevisto. Durante il tragitto, passando dinanzi alla chiesa di San Domenico, pregò il fratello di poter entrare a visitare per l'ultima volta la Madonna del Rosario. Entrata che fu, si inginocchiò e si mise in preghiera. Il fratello, che aveva fretta, cominciò a richiamarla, dicendole che in monastero il tempo per pregare non le sarebbe certo mancato. Ma la santa, nonostante i ripetuti tentativi, non poteva alzarsi da lì, come trattenuta da una forza sovraumana. Comprese allora che la destinazione scelta non era quella designata da Dio e promise alla Vergine che se le avesse ridato la libertà di alzarsi avrebbe senz'altro aspettato di conoscere i sacri voleri. La Madonna acconsentì sorridendo e non tardò a manifestare a Rosa la divina volontà. Il giorno 10 agosto 1606, in quella stessa cappella della Madonna del Rosario, la giovane ventenne vestiva l'abito del terzo ordine domenicano. Non può esservi espressione più adatta a evocare l'identità spirituale di questa santa del famoso versetto del Cantico dei Cantici, come Giglio fra le spine. La Vergine peruviana, infatti, è passata alla storia della geografia come una santa penitente del calibro di Santa Maria Maddalena. Crescendo, non solo aveva allontanato da sé ogni vanità nella cura del corpo e delle vesti, ma, convinta che amore con amor si paga, volle dare al Signore un ricambio d'amore quanto più simile al suo. Da qui la proporzione gigantesca e quasi spaventosa della sua penitenza. Il suo programma giornaliero di vita ha cifre sorprendenti. 12 ore di preghiera, 10 ore di lavoro manuale e 2 sole di riposo. Di notte, per poter pregare senza essere vinta dal sonno, si teneva sospesa ai chiodi di una croce un po' più alta di lei e appoggiata al muro. Tra le altre preghiere, durante questo tempo recitava, con particolare devozione, le litanie lauretane in onore della Madonna. Fu il suo direttore spirituale a moderare il fervore della santa, imponendole maggior tempo per il riposo. Consumata dalla penitenza, offerta per la salvezza dei peccatori e la conversione delle popolazioni indigene, si avvicinò per lei, piuttosto presto, il tempo di passare da questa all'altra vita. Quel che temeva non era una vita breve, ma unicamente una vita vuota d'amore, fu per questo che al sentore della fine imminente, pur avendo solo 31 anni, non potè che rallegrarsi, realizzando di aver dato veramente tutto al suo Signore. Qualche giorno prima di morire, le fu dato il santo viatico e l'estrema unzione, e fu rapita in un'estasi d'amore. Morì solo dopo aver rinnovato i suoi voti religiosi, ripetendo più volte Gesù, sii con me. Era la notte del 23 agosto 1617, dopo la morte, quando il suo corpo, accerchiato da ogni parte da gente esultante di devozione, fu trasportato nella cappella del Rosario, la Madonna da quella statua, dinanzi alla quale la santa, tante volte aveva pregato, le sorrise ancora, per l'ultima volta. La folla presente gridò al miracolo. Quel sorriso è il segno del più bel compiacimento che la Madre Divina volle mostrare per una vita spesa interamente in una eroicità d'amore con pochi uguali. Preghiera a Santa Rosa d'Anima, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, che a Santa Rosa d'Anima, ardente del tuo amore, hai ispirato il proposito di rinunciare al mondo per dedicarsi interamente a te in austera penitenza, concedi a noi, per sua intercessione, di seguire in terra la via della vita, per dissetarci in cielo al torrente delle tue delizie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Rosa d'Anima prega per noi. Grazie a tutti i secoli.